I migliori programmi per backup in Linux. Destinazione stesso PC, rete locale o remota via internet. Dalle soluzioni minime ed efficientissime da riga di comando a diversi programmi di uso comune, anche per l'inesperto per provvedere tramite finestre. Un po' recensione e un po' mini tutorial. Vediamoli in ordine di complessità e ricchezza di funzioni. Ciao da Dario di Alternativa Linux. I migliori programmi per backup in Linux possono interessare tanto utenti comuni quanto amministratori di sistemi complessi e grandi dimensioni. Io mi rivolgo essenzialmente al principiante inesperto di Linux. Quello che per varie ragioni cerca oppure ha già trovato il modo di allungare la vita del proprio PC liberandosi da software commerciali, grandi aziende ed al controllo sistematico delle attività. E se copiare saltuariamente la propria cartella utente all'interno di home in un differente hard disk o supporto esterno è già un buon modo di mettere in salvo i propri dati personali, esistono ovviamente soluzioni più evolute per copiare o sincronizzare dati su cartelle locali o remote e per automatizzare tali procedure. Non servono necessariamente soluzioni hardware evolute come i NAS, sia per l'utente comune che del computer fa un uso limitato, sia per chi abbia esigenze più specifiche in ambito personale e lavorativo. RSync è la base del backup in Linux e per molti utenti anche il punto di arrivo. Anzi, ad essere precisi esisteva già quando Linux ancora non c'era perché nasce per sistemi Unix. Un programma a rega di comando che non si limita alla copia perché sincronizza il contenuto delle cartelle inviando solo le parti dei file modificati, risparmiando così tempo e banda. Le opzioni sono tante, ma quelle essenziali e più utili per un utente comune sono una manciata. Aggiungi i percorsi della cartella da copiare e di quella di destinazione e sei a posto. Tanto se la copia è locale, cioè destinata allo stesso PC o un hard disk ad esso collegato, quanto se la destinazione è altro dispositivo nella rete locale o remoto e la trasmissione avviene attraverso Internet. Il tutto con altissimi livelli di efficienza e sicurezza. Supporta infatti la compressione e la trasmissione cifrata dei dati inviati. La forma più semplice per descrivere come funziona è forse RSync, Opzioni, Sorgente, Destinazioni. Infatti con questo comando il programma verifica il contenuto di tutte le cartelle nella mia home e quanto presente nella omonima cartella all'interno di quella backup del mio disco esterno. Poi invia solo le parti utili a ricostruire eventuali file modificati nella sorgente mantenendo date di modifica, fornendo informazioni sulle operazioni ed eliminando nel disco esterno, file che ho successivamente eliminato dalla mia cartella in home. Per verificare in anticipo quali file o cartelle sarebbero coinvolti, senza ancora eseguire la sincronizzazione, aggiungo l'opzione "-n", per eseguire una simulazione, una dry run. E allora le opzioni "-rtv", diventano "-rtvn". Allestita una pianificazione con cron, un esperto necessita di un semplice file di testo per mettere in sicurezza i dati e sottrarli al rischio di furto o ransomware. Puoi digitare manrsync nel terminale per leggere la documentazione ufficiale e scoprire le tantissime opzioni con esempi di utilizzo. Se l'inglese tecnico non fa per te, è più semplice cercare nel web esempi rsync, e di informazioni ne trovi comunque tante. Non mi soffermo oltre su rsync, perché c'è tanto ancora di cui parlare, ma su di esso si basano diversi dei migliori programmi per il backup in Linux che vado a descrivere. Anche Timeshift, il programma di Linux Mint per la creazione di punti di ripristino del sistema, prevede il ricorso a rsync per impostazione predefinita. GRSync è un programma leggerissimo, opera di un programmatore italiano ed offre una interfaccia grafica semplificata per rsync. Permette di creare ed eseguire sessioni di sincronizzazione tramite una finestra di semplice utilizzo. Non sono incluse proprio tutte le opzioni di rsync e non supporta destinazioni remote. Crea una nuova sessione, cioè operazione di sincronizzazione con il più. Imposta le cartelle sorgente e destinazione cliccando sui pulsanti apri. Se vuoi aggiungi la spunta su cancella nella destinazione. Clicca sul bottone I per avere una simulazione o il tasto di esecuzione per l'effettiva sincronizzazione. Per motivi di rapidità a me risulta comodo creare differenti sessioni per differenti cartelle. Come in queste immagini, per copiare un'intera cartella non ripetere il nome della cartella stessa nel percorso di destinazione o ve ne troverai un'altra con lo stesso nome dentro. L'icona di grsync è bloccata nel mio pannello di cinnamon perché lo uso infatti per sincronizzare manualmente su disco esterno singole cartelle dopo aggiunte o modifiche importanti. Grsync lo trovi certamente nei repository e nel centro software della tua distribuzione Linux. DejaDup è un altro programma grafico basato su rsync. O meglio, sul programma di backup duplicity che a sua volta si basa su rsync. Si trova spesso preinstallato in diverse distribuzioni Linux basate sull'ambiente desktop GNOME. A differenza di grsync, DejaDup supporta anche il trasferimento su Google Drive o altra posizione remota come FTP, Rete Samba, SSH o WebDAV. Oltre che ovviamente nel medesimo PC. Aggiungi le cartelle da sottoporre a backup, indica se vuoi cartelle da ignorare e saranno prodotti volumi in formato TAR che possono anche venire cifrati. Impostato ed eseguito il primo backup, dalle preferenze puoi impostare l'eliminazione automatica dopo 3, 6 o 12 mesi se non desideri mantenerli tutti. Per il ripristino, seleziona un backup dall'elenco per data nel lato inferiore della finestra. Recuperi l'intero backup selezionando tutto con CTRL A. Oppure clicca su singoli file o cartelle mantenendo premuto CTRL per la selezione. Poi conferma con il pulsante ripristina. Oltre ad eseguire manualmente un backup puoi pianificarne l'esecuzione automatica, quotidianamente o una volta alla settimana. Per le pianificazioni, DejaDup non ricorre all'utilità a riga di comando Cron, ma ad un suo programma monitor che resta in esecuzione durante le sessioni desktop. Ovviamente quindi il backup automatico può essere eseguito solo mentre sei connesso al sistema. Nota per l'utente che installa DejaDup in Flatpak invece che dai repository. Avrai bisogno di consentire l'esecuzione del programma in background se intendi automatizzare il backup. Puoi farlo anche in forma grafica, un po' come avviene in Android, installando Flat Seal. Probabilmente non incontrerai mai errori in fase di ripristino di un backup di DejaDup, ma la guida in linea che trovi dal menu principale contempla il caso di bug o crash e offre soluzioni di ripiego. Anche Lucky Backup è tra i migliori programmi per backup in Linux. È dotato di finestre e si basa su RSync. Sebbene il programma non sia aggiornato da tempo, la base RSync lo rende sempre adeguato. Ecco perché è disponibile nei repository di quasi tutte le distro. Ed è molto più evoluto dei due programmi precedentemente citati. Potrebbe risultare la soluzione definitiva più semplice per l'uso personale di un utente comune. Al primo avvio Lucky Backup imposta un profilo predefinito. Per ogni profilo aggiungi una o più operazioni da eseguirsi nell'ordine desiderato. Per ciascuna operazione imposti cartelle sorgenti e di destinazione, anche remote. Conviene lasciare non attiva la spunta su non creare altri directory, così la cartella sorgente viene ricreata nella destinazione per impostazione predefinita. Se cancelli qualcosa dalla sorgente, al successivo backup i file sono eliminati anche da lì. Puoi copiare ogni volta tutto quanto e in tal caso puoi mantenere molteplici snapshot, cioè versioni di backup effettuate in tempi diversi, prima che il meno recente venga eliminato. Ma può risultare pratico anche sincronizzare il contenuto della sorgente con quello della destinazione. Questo consente di lavorare nella cartella di destinazione e riportare le modifiche nella sorgente. Esempi pratici sono quelli in cui vuoi sincronizzare contenuti di un pc con quelli di un altro. Oppure se la destinazione è un disco esterno su cui lavori quando sei in giro con il portatile. La finestra di impostazioni avanzate consente un controllo capillare delle opzioni di RSync, inclusioni ed esclusioni di file e cartelle con modelli predefiniti di uso tipico. Oppure tramite un eccellente editor di pattern integrato. Offre poi dettagli delle connessioni con daemone, RSync remoto o tramite SSH ed anche l'esecuzione di comandi da terminale prima o dopo il completamento del task. Ogni task del profilo può quindi avere impostazioni differenti e puoi creare differenti profili ciascuno con le proprie operazioni. Ad esempio per eseguire separatamente backup di differenti utenti del pc. Questa flessibilità consente davvero tante possibilità. Metti la spunta su simulazione per verificare le operazioni che verrebbero compiute oppure avvia la sequenza di operazioni di un profilo. La key backup è molto forte anche sulla pianificazione delle attività. Questa si basa su cron, attraverso un'interfaccia grafica che rappresenta uno dei tentativi meglio riusciti per comprendere al meglio la potenza di questo programma per l'esecuzione a pianificata di comandi. Imposta una o più operazioni di pianificazione con le semplici impostazioni presentate e aggiungile infine alla cosiddetta cron tab del tuo utente. Come detto Lucky Backup si presta anche a mantenere differenti versioni di operazioni di backup nel corso del tempo e questo significa che è ovviamente in grado di mostrare le differenze tra di loro per consentirti all'occorrenza di ripristinare file da un preciso backup anche in una cartella diversa da quella sorgente. Una volta installato Lucky Backup dal centro software della tua distro o con un comando da terminale, troverai una cosiddetta istanza del programma sotto accessori e un'altra sotto amministrazione, contrassegnata dall'indicazione super utente. Questa serve nei casi in cui tu voglia sottoporre a backup cartelle accessibili solo con privilegi di root o anche solo per sottoporre a backup le cartelle home di altri utenti del PC. Se pianifichi operazioni che richiedono privilegi amministrativi, spunta l'opzione console mode nella finestra di pianificazione. Anche Lucky Backup dispone di una guida integrata assai ben fatta anche se solo in lingua inglese. Cryptometer non è propriamente un programma per il backup. Lo includo in questa lista dei migliori programmi per il backup in Linux perché non mi pare comunque fuori tema. Si tratta di una alternativa a Boxcryptor, compatibile anche con Linux. Se non trovi Cryptometer nei repository della tua distro, puoi installarlo come Flatpak scaricando 500MB di dati. Io però entro nel sito web di Cryptometer e scarico l'ultima versione portabile in formato AppImage che nei suoi 50MB, come il Flatpak, garantisce il funzionamento in qualunque distro senza conflitti. Lo scopo di Cryptometer è integrarsi con gli account Dropbox, iCloud, Google Drive, Microsoft OneDrive, WebDAV ed altri con il massimo della privacy. Impedisce ai colossi informatici che gestiscono i rispettivi servizi e a chiunque altro di sapere cosa hai caricato. Tanto basta per rispettare l'obbligo sancito dal GDPR di adottare misure supplementari di protezione di dati sensibili quando questi finiscano in paesi con legislazioni più permissive di quella europea. Il meccanismo è semplice se già hai integrato nella tua distro un servizio come quelli citati. Crea una nuova cosiddetta cassaforte assegnandole un nome e puntandola all'interno delle cartelle locali del servizio cloud. Dovrai indicare e confermare una password perché poi ciò che aggiunge alla cartella viene bloccato con un potente algoritmo di cifratura e può venire sbloccato solo con quella e dall'interno di Cryptometer. Non appena la sblocchi e premi Rivela l'unità, la cassaforte viene montata temporaneamente in chiaro nel file system. Nel file manager gestisci il suo contenuto come in un qualunque altro supporto esterno. Puoi quindi aggiungere contenuti. Il servizio di sincronizzazione inizia a caricare nel cloud i dati cifrati, ma puoi bloccare nuovamente la cassaforte senza attendere che il caricamento nella nuvola sia completo. Cryptometer e la password creata per la cassaforte saranno l'unico modo per rimetterne in chiaro il contenuto, per aggiungere, eliminare o modificare file e cartelle. Tu stesso non troverai altro che dati cifrati e inaccessibili nelle cartelle online del servizio. Cryptometer è disponibile anche nell'App Store per iOS con acquisti in app e ha una non proprio modica cifra di 14,99€ nel Play Store Android. Ma il programma desktop è open source, multipiattaforma, niente backdoor o date di scadenza ed è e resterà gratuito anche per l'utilizzo in team. Veniamo adesso a Vorta, programma desktop che si appoggia all'utilità di backup Borg, apprezzata per il supporto alla deduplicazione, tecnica che riduce al minimo lo spazio necessario per l'acchievazione, ottimizzando le ridondanze senza compromettere la fedeltà o l'integrità dei dati. Vorta è il più articolato ed evoluto dei programmi finora illustrati e lo deve al back-end Borg. La potente cifratura dei dati con algoritmo a 256 bit, la compressione con LZ4 e altri algoritmi, le operazioni di pianificazione, verifica, ripristino ed eliminazione di backup meno recenti sono altri punti forti di questa accoppiata. Vorta è presente nei repository di molte famiglie di distribuzioni Linux, ma è installabile anche in formato Flatpak. Ed è disponibile anche per FreeBSD e macOS. Io utilizzo la versione 0.8.12 Flatpak. Noto però che rispetto alla 0.8.3 dei repository di Linux Mint 21.2 le traduzioni in italiano sono ancora incomplete. Una volta compreso che nel gergo di Borg per repository si intende un'area di archiviazione locale o remota per la destinazione dei backup e che per archivio si intende il singolo backup, il primo avvio di Vorta risulta meno ostico. Prima di inizializzare un repository, crea una nuova cartella di destinazione se non hai mai usato il programma. Può trovarsi in un percorso locale oppure remoto in questa forma. La directory impostata deve essere comunque vuota perché il repository sia inizializzato correttamente. Se scegli il salvataggio su server remoto, questo dovrà avere installato Borg backup e supportare SSH. Ma qui Vorta comincia a dare prova della sua forza, perché è in grado di generare e gestire coppie di chiavi simmetriche per semplificare l'autenticazione nel server remoto senza necessità di effettuare il login ogni volta. Per l'ipotesi di backup remoto viene sponsorizzato il servizio di hosting specializzato Borg Base che semplifica molti passaggi di questo scenario. In ogni caso, sia la documentazione di Vorta che quella di Borg, entrambe solo in inglese, consentono all'esperto di approfondire le modalità per arrestire un repository remoto nel proprio server. Oggi infatti prendo in considerazione l'ipotesi più semplice, di salvataggio in locale. Oppure di salvataggio in una cartella remota montata localmente, come nel caso di un NAS. Opzione che però limita l'intervento di Vorta e richiede più tempo. Anzitutto non è necessario creare chiavi SSH per un repository locale. Premi il segno più alato della riga Repository e scegli Nuovo repository. Nella finestra che si apre, clicca sull'icona a forma di cartella, seleziona la destinazione del backup e indica la passphrase per l'accesso. Puoi ignorare la scheda avanzata e cliccare su Add. è pronto. Puoi creare molteplici repository nel medesimo profilo, ciascuno con le proprie cartelle sorgenti. Pare che potrebbe essere anche implementata la funzione per eseguire il backup in molteplici repository contemporaneamente. Già adesso puoi creare molteplici profili. Le possibilità sono infinite. Ma restiamo sul semplice. Dopo aver inizializzato un repository, vai alla scheda fonti per iniziare ad includere molteplici file o cartelle cliccando il segno più al di sotto dell'elenco . Puoi escludere dal backup cartelle che contengano uno o più determinati tipi di file. Si interviene nella colonna inferiore destra. L'esempio predefinito mostra il caso di file di testo vuoto dal nome .nobackup che può essere creato e copiato nelle cartelle da escludere. Puoi creare cosiddetti pattern di esclusione nella colonna sinistra. Io escludo tutte le cartelle nascoste .cache e .comments ovunque si trovino. Trovi esempi avanzati di pattern nella documentazione di Borg, ma ti dirò che è molto più semplice comprendere come funzionano o crearne appositamente con l'utilità integrata in Lucky Backup che ho illustrato prima. La pressione del tasto inizia backup dà il via alla magia. Ma poi vorrai automatizzare i backup. Nella scheda pianificazione imposti la creazione automatica di un backup ogni tot ore oppure uno quotidiano ad un'ora specifica. Può sembrare eccessivo specie in termini di spazio eseguire molteplici backup ogni giorno, ma la compressione fa un ottimo lavoro e più avanti vedremo come quanto siano ben studiate le opzioni di pulizia degli archivi meno recenti. Considerato che potresti avere il computer non sempre acceso, lascerei la spunta sull'opzione per avviare, al momento del login, eventuale backup non eseguito . con la spunta accanto a Missed Backups. Lascerei anche la verifica automatica dei dati ogni due o tre settimane. Per avviare automaticamente i Vorta insieme al sistema è indispensabile anche passare alla scheda varie e spuntare l'apposita casella. Dopo ogni backup eseguito con successo, una nuova riga viene aggiunta alla sezione Archivi. Normale che i successivi richiedano meno tempo ed occupino meno spazio perché solo le nuove informazioni sono aggiunte ai dati preesistenti. Quando si tratta di ripristinare un backup successivo, Vorta mantiene tutti i riferimenti con i precedenti per ricostruire lo stato desiderato. E anche qui viene fuori la potenza della coppiata Vorta-Borg. Anzitutto, dopo aver selezionato un archivio, puoi avviare la verifica. Non c'è nulla di peggio che eseguire diligentemente backup e quando ti serve ripristinarlo scoprire che è danneggiato. Ma prima ancora di effettuare un ripristino vorrai essere sicuro di scegliere il backup giusto. E allora ecco un altro asso nella manica di Vorta. Nell'elenco degli archivi, selezionane due cliccandoci mentre tieni premuto il tasto CTRL sulla tastiera. Clicca su DIFF. Si apre una finestra di dialogo in cui viene mostrato un resoconto delle differenze. File modificati M, aggiunti A o eliminati D e relative dimensioni sono segnalati in maniera efficiente. Quando poi si tratta di ripristinare dati dai backup, Vorta offre due possibilità. Estrai permette di scegliere uno o più file specifici da estrarre in una cartella. Oppure monta, che monta l'archivio nel file system come fosse un hard disk esterno da cui prelevare e copiare i file desiderati. Nel primo caso i dati sono decifrati. Nel secondo il contenuto del volume risulta in chiaro fino al termine delle operazioni. Ti ricordo infatti che nemmeno tu puoi estrarre informazioni coerenti dalle cartelle dei backup. A questo servono la potente cifratura AES e la passphrase che hai creato. Quando hai finito di operare in un volume montato, smontalo con l'apposito bontone dentro Vorta piuttosto che dall'ambiente desktop. Al di sotto dell'elenco dei backup accedi alle opzioni di pulizia degli archivi, per evitare che con il tempo si accumulino dati eccessivi ed eliminare selettivamente i meno recenti. Il meccanismo è assai raffinato. La finestra di impostazioni non deve spaventare. Come chiareto nella descrizione, la pulizia rimuove gli archivi più datati. Puoi selezionare il numero di archivi orari, quotidiani eccetera da conservare. Di regola se ne mantengono di più tra i più recenti e di meno tra i più datati. Ammettiamo di aver pianificato un backup quotidiano di lasciare le impostazioni predefinite di pulizia. Dopo una settimana il più vecchio sarà eliminato. Il sistema inizierà a mantenere comunque backup mensili, semestrali e annuali, che con il passare del tempo sono eliminate in base ai criteri impostati. In ogni caso è preimpostato un criterio per mantenere sempre e comunque gli archivi delle ultime 10 ore. Sposta la freccia sul campo 10H per verificare come sostituire tale valore. Gli restanti due campi nella parte inferiore della finestra servono ad impostare la nomenclatura dei backup, ma possono venire lasciati come sono. Quelli passati in rassegna rappresentano solo una piccola selezione dei migliori programmi per il backup in Linux. Se non ti bastano, nell'articolo blog trovi ulteriori segnalazioni che potresti approfondire e informazioni spesso aggiornate anche successivamente alla pubblicazione del video. Metto il link sotto il titolo dove c'è mostra altro e la descrizione. Hai bisogno di ulteriori informazioni sulle funzioni di un programma tra quelli citati? Fai come me. Consulta la documentazione integrata o cercala nel sito web ufficiale. Prima cerca sempre e consulta la documentazione. Hai un problema o incontri errori? Fai come me. Una ricerca web con il nome del programma ed il problema riscontrato o l'esatto messaggio di errore. Il 90% delle volte trovi una soluzione tra i primi 5 o 6 risultati. Ma ci sono gli spazi appropriati per cercare assistenza. I forum di questo o quel software o sistema operativo sono frequentati da persone competenti che passano dal forum e se conoscono il problema sono contenti di poterti aiutare. Ma non ci si deve dimostrare pigri e bisogna saperci fare con le persone. Questo per suggerire di cercare tutorial negli appositi spazi e cercare assistenza negli spazi appropriati. Ho piacere di rispondere sempre a tutti ma offrire assistenza è al di fuori delle mie possibilità. In conclusione, come si nota, quello della sicurezza dei dati e del backup è l'ennesimo ambito in cui Linux non manca certo di soluzioni. Sempre per chi, conoscendo poco Linux e talvolta senza l'umiltà di ammetterlo, sostiene che per Linux non ci sono programmi validi. Grazie per il tuo tempo per la visualizzazione del video e alla prossima.